La dignità e i diritti dei fanciulli, la loro crescita sana e gioiosa sono beni estremamente preziosi, cruciali per la famiglia umana e vanno difesi dagli ordinamenti giuridici di stati e nazioni. In un lungo discorso in Sala Clementina, Papa Francesco ha incoraggiato i partecipanti al congresso Child Dignity in the Digital World, il primo della storia sul tema degli abusi dei minori in rete, ad usare tenerezza ma anche grande determinazione per proteggere tutti i bimbi che vengono al mondo ogni giorno e sotto ogni cielo. Ha a posto l'accento sulle opportunità enormi ma anche le trappole, i lati oscuri di internet dove sembra che il male trovi sempre modi nuovi ed efficaci per espandersi. Dall'abullismo al sexting, dall'adescamento fino al traffico delle persone e ancora stupri su commissione trasmessi in diretta, crimini che inorridiscono e che ha affermato Bergoglio non possono essere controllati da soli. Serve perciò una mobilitazione collettiva, occhi aperti alla verità, perché in ogni ambito nascondere la realtà degli abusi sessuali, ha rimarcato il Papa, è un errore gravissimo. Mai sottovalutare il danno e l'impatto delle immagini violente e sessuali sulle menti dei bambini, mai pensare che le soluzioni tecniche, automatiche e i filtri basati su algoritmi possano bastare alla tutela del minore, mai cadere nell'inganno ideologico della rete come regno della libertà senza limiti. Francesco ha ribadito infine, l'urgenza di un impegno concertato tra governi e istituzioni ha assicurato la sollecitudine e la cura della Chiesa. In moltissime occasioni e in tanti paesi diversi, i miei occhi incontrano quelli dei bambini, poveri e ricchi, sani e malati, gioiosi e sofferenti. Essere guardati dagli occhi dei bambini è un'esperienza che tutti conosciamo e che ci tocca fino in fondo al cuore e che ci obbliga anche a un esame di coscienza. Che cosa facciamo noi perché questi bambini possano guardarci sorridendo e conservino uno sguardo limpido, ricco di fiducia e di speranza? Che cosa facciamo perché non venga rubata loro questa luce? Perché questi occhi non vengano turbati e corrotti da ciò che incontreranno nella rete, che sarà parte integrante e importantissima del loro ambiente di vita? Lavoriamo dunque insieme per avere sempre il diritto, il coraggio e la gioia di guardare negli occhi i bambini del mondo.